C'è sempre una prima volta, anche per un rione storicamente denso di attività criminali, ma mai finito sotto i riflettori per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 24 le ordinanze di custodia cautelare eseguite nella notte dai carabinieri della Compagnia di San Lorenzo su richiesta della DDA del Capoluogo, a margine dell'operazione antidroga denominata Teseo. Sgominata una maxiorganizzazione che gestiva una delle più fiorenti piazze di spaccio palermitane, rifornendo mezza città. L'indagine, avviata nel novembre 2015, ha permesso di ricostruire ruoli e modalità del sodalizio, al cui vertice c'era un triunvirato composto da Antonino Mazza, Massimiliano Zarcone e Salvatore Bonura. L'area di spaccio si estendeva da via Pensabene a via Nedonadi e ai vicoli che costituiscono un corridoio tra i padiglioni di via Costante Girardengo. Mediatori tra i vertici e i pusher erano Salvatore Catanzaro e Paolo Puleo chiamati a gestire le scorte di droga, la ripartizione delle dosi e la raccolta del denaro. È stato riscontrato come nei giorni di maggior affluenza, suddivisi in tre turni di spaccio, gli introiti potevano raggiungere anche i 2000 euro, con un costo medio di 5-10 euro per una dose di marijuana o hashish e 20-40 euro per le dosi di cocaina. Particolare che chiarisce la solidità dell'organizzazione sarebbe stata la velocità con la quale i capi rispondevano agli arresti dei pusher, trovandone sempre di nuovi e presenziando loro stessi nelle piazze per rassicurare i propri venditori. Figura di riferimento poi era quella di Elena Billeci, moglie di Massimiliano Zarcone che, oltre a tenere la contabilità degli affari, annotava ogni somma di denaro e il numero delle dosi distribuite durante il turno. Fra gli spacciatori c'era anche un ragazzo, all'epoca minorenne, piazzato a smerciare la droga davanti alla scuola elementare del quartiere. Era un'organizzazione ben strutturata, con dei veri e propri turni di lavoro, erano tre turni di otto ore in cui si avvicendavano sia i pusher che i fiduciari e c'erano delle vere e proprie di consegne, cambi di consegna tra l'uno e gli altri. Chi si approvvigionava non erano soltanto persone di Palermo ma anche di altre province. Dalle attività investigative non è emerso nessun collegamento con Cosa Nostra, sia per quanto riguarda la fase autorizzativa che per quanto riguarda anche il processo approvvigionativo.